Kate Middleton tra un mese dirà tutta la verità su suoi problemi di salute e pubblicherà una nuova sono queste le ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito dopo il recente caos mediatico legato prima all'operazione all'addome della principessa e poi allo scandalo di quella fotorito sono queste le ultime indiscrezioni che arrivano dal a parlarne al Daily Mail che riportando le dichiarazioni di persone molto vicine ai reali inglesi preannuncia che la principessa Kate insieme a suo marito il principe William a parlarne al Daily Mail che riportando le dichiarazioni di persone molto vicine ai reali inglesi preannuncia che la principessa Kate insieme a suo marito il principe William a parlarne al Daily Mail. Inoltre ci si aspetta che Kate il prossimo 23 aprile 2024 come è solita fare per tutti i compleanni dei suoi bambini pubblicherà nuove foto del suo figlio più piccolo. Inoltre ci si aspetta che Kate il prossimo 23 aprile l'ultima notizia trapelata sulle condizioni di salute di Kate Middleton è quella che parla di ileostomia cioè di un intervento molto complesso che ha deviato l'interstino verso un fotocreato. L'ultima notizia trapelata sulle condizioni di così, secondo quanto riferito dalla blogger americana Jessica Reed Krauss, Kate starebbe vivendo una dura convalescenza con un sacchetto esterno con le secondo le voci vicine ai reali inglesi, sembra proprio che dietro le mura del palazzo reale William e Kate sarebbero fortemente scossi da tutte le speculazioni sul loro mat. La più recente è quella che parla perfino di un tradimento da parte di lui e di una donna che sarebbe l'amante nascosta di William, Rosa. Speculazioni che si sono intensificate con il tempo data la lunga assenza dai riflettori di Kate, lo scivolone della foto ritoccata che ha fatto crollare la reputazione dell'ufficio sta. Speculazioni che si sono intensificate con il tempo data la lunga assenza dai riflettori di Kate, lo scivolone della foto. Tutta la verità potrebbe quindi essere rivelata a breve in occasione degli eventi pubblici in programma per il prossimo mese, aprile 2020. Quindi non ci resta che attenda.